ciao a tutti ragazzi ciao bentornati sul nostro canale youtube video di oggi dedicato all'unboxing della figure pop up parade di sai dalla serie hikaru no go si fujiwara no sai ovvero questo spirito di questo maestro di go che appunto fa un po da guida al protagonista hikaru nella serie all'inizio diciamo gioco al posto suo e poi via via insomma comunque questa devo dire più grande rispetto alla serie di hikaru che avevamo unboxato e tra l'altro ragazzi io vi ricordo se volete acquistare anche questa figure nuova link in descrizione www.japan shopping service.it ok io direi intanto di andare ad aprirla questo è davvero grande sì infatti il pregio di quell'altra vabbè a parte che l'ha fatta molto bene tutto però rispetto ad altre era molto compatta a livello di spazio questa invece per carità non è neanche un difetto cioè voglio dire anzi apprezzo che sai l'effetto del vestito e quant'altro ok ecco qua sì qua c'è lo sfondo sempre con le pedine come nell'altra ok togliamo anche lo scotch di qui ok bisogna fare tre pezzetti da togliere ok dovrei aver tolto tutto ok sì nell'altro video parlavo insomma anche del cambio magari di vestito di hikaru rispetto a la versione per nendoroide chiaramente sai invece è sempre vestito nella stessa maniera essendo insomma uno spirito e quant'altro poi vabbè insomma apprezzo anche voglio dire perché qua abbiamo molta più plastica perché hanno voluto proteggere un po' di più il cavolo anche protetta bene comunque sì qua c'è diversa roba ah sì perché si aggancia in due punti il piede il vestito sì no però sì apprezzo che appunto abbiano un po' aspettate così ah no era dall'altra parte sì 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 no volevo stare attenta perché se si si spacca qua ecco però vedi che non devo ok devo portarlo un po' più in qua sì mi sa di sì fanno vedere piano eh eh sì effettivamente non non torna molto no perché allora purtroppo queste non sono figure smontabili quindi se la stacco poi è un problema no no per forza è così però però vedete che ora sì l'unico problema no andrebbe aspetta andrebbe portata più in qua forse forse si può girare lui no ma che amore non è non è smontabile non è è fissa proprio no però vedi c'è ah dici lui no che dire no e allora niente non torna purtroppo no per fare l'effetto devo spostarlo più in qua però però è anche purtroppo non torna l'incastro no perché è anche più più alto e il problema è questo dovrebbe essere più vabbè sentite comunque stare ci sta sì sì no allora io vi faccio vedere la figure poi ne parleremo in separata sede noi allora la figure comunque è davvero davvero bella insomma riprende chiaramente i vestiti anche dell'epoca e tutto poi appunto mi piace molto come abbiano giocato insomma che svolazza un po' anche qua i capelli insomma come anche l'altra sono un po' più dinamiche rispetto ad altre figure che si sono viste come le altre come up parade sono molto molto dettagliate e fatte per i figli l'unico problema appunto è questa cosa dell'incastro del vestito no perché appunto dovrebbe che non torna ok però il problema ci starebbe anche il problema è che è un po' troppo rialzata quindi io ora poi magari ci sta e tutto però io non voglio rischiare perché come vedete per carità è fatta di plastica e tutto però se loro è un po' poi non si attacca più sì anche ecco quindi ora poi vedremo un po' anche a confronto con Icaro eccole qua cavolo vabbè si sai grande sì vabbè qui Icaro è un bambino quindi ci sta anche insomma la cosa no vabbè comunque sono due bellissime figure io ragazzi vi ricordo e se le volete acquistare tutte e due nuove ovviamente link in descrizione www.japanshoppingservice.it se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate o condividete se volete iscrivetevi al canale un saluto a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao